Stradigevari sarà un'occasione innanzitutto per vedere per la prima volta a Cremona, più generazioni in un unico evento, oltretutto anche per rilanciare Cremona perché da un paio di anni sta avendo un po' un declino nella movida notturna e quindi grazie ad Andrea Michele che hanno organizzato questo evento. Stradigevari sarà un'occasione per esibirmi e farmi vedere quello che sono in grado anche solamente ad avere vent'anni, si può dimostrare. Può essere un incentivo di far aprire un po' la mente a qualche cremonese interessato a una cosa costruttiva. Stradigevari sarà un'occasione per far conoscere a Cremona il mondo notturno, il mondo della notte. Aspetta che ci pensi, questa cosa risponde. Non è solo il lavoro, la passione, ma è un modo per far conoscere alle persone questa grande cosa che è la musica, che è la cultura e è un modo anche per stare assieme e divertirsi. Ho già sbagliato. Stradigevari secondo me sarà l'occasione per fare qualcosa di diverso in città, più che neanche una festa per noi, è proprio una festa per la città, perché io che lavoro in tutti i locali cremonesi ha bisogno Cremona di una rinfrescata, speriamo che questo sia un in là per organizzare grandi eventi qua a Cremona come quello che stiamo organizzando da parecchi mesi qui in piazza Stradigevari. Stradigevari per me è un'occasione per far svegliare un po' questa città che ultimamente si è un po' adagiata, non c'è movimento, magari c'è, c'è la gente, però c'è un po' di fiacca. Grazie a tutti.